Noi siamo perché il lavoro sia un lavoro sicuro, sicuro in quanto a tempo indeterminato perché l'Italia ha tantissimi contratti a termine, le donne e i giovani vengono assunti prevalentemente in contratto a termine e quindi fanno fatica a potersi costruire un futuro. Sicuro in termini anche di retribuzione, che sia ben retribuito rispettando i contratti nazionali sottoscritti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative. E invece sappiamo che prolificano tanti contratti che lasciano i diritti delle lavoratrici e lavoratori per la strada e sicuro anche in termini di sicurezza sul lavoro perché l'Italia ha più di mille morti all'anno, è inaccettabile, noi vogliamo arrivare a zero morti sul lavoro e l'abbiamo detto anche al governo siamo disponibili ad un confronto, siamo propositivi, abbiamo proposte perché su salute e sicurezza dobbiamo metterci tutti assieme. Non c'è un tema appunto solo di sicurezza, c'è un tema di salute perché ci si ammala nel lavoro e tra l'altro spesso ci se ne accorge 20-30 anni dopo e quindi anche qui la salute sul lavoro e anche quella dell'ambiente fanno la differenza per le persone.